Valdisieve ottiene la permanenza in serie C-Gold chiudendo in tre partite la serie Playout contro Montale a cui auguriamo un pronto ritorno in categoria e partita che si è messo subito nella giusta direzione per i bianco-verdi. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff di Valdisieve per non aver mai mollato nonostante alcuni periodi di difficoltà, sfortuna e partite perse sul suono della sirena. Il match, Valdisieve ha il giusto approccio alla partita e finalmente si vede sul parquet una squadra in grado di giocare e di lottare come piace a Cocci Pesciole trascinata da Municchi e Morandi. Il Valdisieve prende il comando della partita e del punteggio. Gli ospiti provano ad arginare il dinamismo dei bianco-verdi con la zona ma prima Maltomini con una tripla poi Occhini con 5 punti consecutivi. Portini bianco-verdi sul 22 a 6. Nel finale di periodo Montale accenna una certa reazione che le consente di limitare i danni per trovare una certa consistenza al rientro dal riposo lungo con il tentativo di cambiare l'inerzia della partita. Ma Valdisieve controlla bene e dimostrano una certa dinamicità dove Bongini e Claudio Piccini realizzano canestri importanti che di fatti spengono ogni velleità degli ospiti che sembrano ormai aver mollato. Il quarto periodo ha ben poco da dire con il Valdisieve ormai lanciato verso la salvezza infatti i bianco-verdi segnano con continuità anche con il giovane Sarti che si mette in questo modo in evidenza. Mentre Montale sbatte sul ferro e sulla difesa bianco-verde per poi mollare nei minuti finale il quintetto di Pisciola e Gemmi. Meritatamente può festeggiare la permanenza in serie C-Gold con la società e i propri sostenitori.